Si parla in queste ore anche di un po' rimpasto della giunta regionale, le deleghe sono state attribuite anche un po' forse a Fratelli d'Italia che ha letteralmente minacciato. Guardi, io devo dire che abbiamo trovato una dimensione, un accordo evidentemente tra tutti, l'obiettivo è quello certamente di lavorare bene, credo di aver sempre lavorato bene perché in queste ore mi stanno arrivando anche dagli enti gestori grandi forme di solidarietà e di affezione perché in due anni e mezzo si sono anche creati dei rapporti personali, devo dire che comunque tutto l'ambito del terzo settore resterà in capo alla sottoscritta così come tutto il tema delle fragilità e quindi non c'è questo cambiamento epocale, poi ho acquisito una nuova delega che è quella del benessere animale che era da oltre un anno che chiedevo perché credo che quello sia un tema fondamentale rispetto al quale oggi bisogna agire anche a livello più alto e quindi regionale, non solo a livello locale per avere un coordinamento, una gestione di insieme e poi c'è anche tutto il tema ovviamente dei minori che non lascerei mai e che ovviamente andiamo a rendere ancora più, diciamo così, a implementare e a dare valore a questo tema che è assolutamente fondamentale, la casa rimane in capo alla sottoscritta ovviamente quindi tutte le politiche abitative Allora assente il clima però quindi anche in giunta regionale tra la coalizione di centrodestra è evidentemente teso questo ha creato una sorta di tregua? Ma assolutamente, io dico che questa sorta di rimpasto a saldo zero è un accordo che evidentemente ha determinato e voluto determinare assolutamente una definizione di un assetto che stava scricchiolando ma che oggi evidentemente assolutamente ha ripreso a funzionare a tutti gli effetti